Giovedì 28 agosto, ben ritrovati. I carabinieri di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti alla competente autorità giudiziaria, una donna di 38 anni, nubile, impiegata. A seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di una pianta di marijuana in fluorescenza dell'altezza di 1,60 m collocata nel balcone dell'appartamento. Da un controllo effettuato dai carabinieri di Chiaravalle ad una donna che viaggiava in auto nei pressi di Montemarciano sono stati rinvenuti 5,3 grammi di eroina già divisi in dosi. Presso il suo domicilio è spuntato un bilancino di precisione e quasi un grammo di eroina. 41 anni, residente a Senigallia, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti. È stato prorogato a venerdì 5 a settembre il termine per la richiesta di rimborso spese da parte di tutti coloro che a causa dell'alluvione del 3 maggio hanno provveduto autonomamente all'autospurgo per la pulizia dei locali dal fango. La richiesta di rimborso potrà essere presentata esclusivamente presso la portineria di Palazzo Comunale, Piazza Roma o presso la portineria del Palazzo Nuova, Gioventù in Viale Leopardi. Sempre a Senigallia. Io corro per la vita. Il servizio. Domenica 7 settembre a Senigallia, terza edizione dell'iniziativa Io corro per la vita, organizzata per promuovere la prevenzione dei tumori femminili al seno e alla cervice. La manifestazione organizzata dalla sezione di Senigallia di FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arte e Professioni Affari, con la collaborazione e il contributo di numerosi sponsor privati. Terza manifestazione di Io corro per la vita. Ormai è diventata un'abitudine per la città di Senigallia, per il comune, per la provincia e per la regione. Vederci camminare domenica 7 settembre ore 10 ai foro anonario per le nostre due associazioni oncologiche, Andos e Aos, che lavorano incessantemente sul territorio per i nostri malati tumorali. Assistenza domiciliare, assistenza ai familiari, prevenzione e questo il discorso fondamentale che la FIDAPA vuole sempre passare di anno dopo un anno. Migliorare le condizioni della società femminile, di chi sta effettivamente male, male, male e di chi li circonda. Quindi anche quest'anno ci ritroveremo per marciare. Io corro per la vita, per le nostre associazioni oncologiche e per la nostra popolazione femminile. Dal 27 al 30 agosto il centro storico si riempie di colori, suoni e sapori per la tradizionale Fiera di Sant'Agostino e Fiera Bio in Piazza del Duca. 550 edizioni per la storica fiera, un appuntamento tradizionale che come ogni anno a fine agosto rinnova la secolare vocazione mercantile della città. È tutto anche per oggi, grazie all'appuntamento, come sapete, e per domani. Grazie a tutti.